La Sieta Legend Si conferma uno stato di forma buono per me E mi fa davvero molto piacere che adesso torno in Colombia Faccio una ventina di giorni in altura per preparare il mondiale Faccio i campionati nazionali E allora torno davvero molto contento di quello che è stata la mia stagione fino adesso Abbiamo fatto una bella corsa all'inizio un po' movimentata su e giù Poi abbiamo preso la salitona lunga E da lì in poi abbiamo fatto prima Mattia Longa poi Diego Veramente un bel ritmo Abbiamo girato un po' siamo rimasti in 5 Secondo me eravamo i 5 più forti di giornata Avevo intuito che Diego non fosse il solito Diego E quindi ci ho anche un po' sperato Però sul finale proprio all'ultimo Sopra 2.500 metri Ci ha dato 10 secondi e sarete tenuti fino all'arrivo Sono molto contento Primo under, comunque terzo assoluto ancora da under Sono molto contento in mezzo a questi campioni qua Molto contento Sono contenta, sono delle belle gare E mi piace comunque essere presente a gare così importanti Sì diciamo che incastrare i periodi di allenamento con le gare Non è sempre facile e quindi non sempre le sensazioni sono buone Però dai l'importante secondo me è provarci e mettersi in gioco E poi quello che viene è bene Se è una vittoria meglio Sopra 2.500 metri